Ciao a tutti amici, io sono qui con una giovanissima amica che si chiama Martina Buzzolani e con lei inizieremo la prima rubrica dedicata ai giovani. Perché Martina? Perché oltre ad essere giovanissima lei ha un sogno che sta inseguendo fin da quando era ancora più piccolina. Un sogno che ovviamente richiede tanto sforzo, tanta pazienza, concentrazione, applicazione anche da parte dei genitori, a parte la parte economica, che la accompagnano nel suo pellegrinaggio e che la seguono. Per cui, ciao Martina. Ciao, ciao a tutti. Allora, quanti anni hai adesso? Ho 16 anni. E da quando hai iniziato il tuo sogno? Eh, da quando ne avevo tre. Tutto è partito da un Natale, quando ho trovato in una scatola un body di danza e mi ha portato a questa grande passione, proprio totale. Quindi abbiamo svelato la passione di Martina, l'ha detto lei. Con Martina affronteremo una rubrica molto interessante che parla di? Di danza classica e contemporanea. Perfetto, quindi con Martina partiremo con una serie di rubriche, rimanete con noi per entrare meglio nel mondo della danza classica e della danza contemporanea. Poi con un'amica così giovanissima che vi condurrà per mano sicuramente vi divertirete tantissimo, è vero Martina? Giusto. Grazie, grazie a te, ci vediamo alla prossima puntata e grazie a voi, rimanete sintonizzati. Ciao. Ciao.